Soltanto da 50 anni a questa parte si è scoperto che l'arte non l'hanno fatto soltanto gli uomini, ma centinaia, anzi migliaia di donne. È difficile quindi quantificarle, so soltanto che ci sono state delle artiste straordinarie, piene di talento, rese invisibili nei libri, nei manuali di storia dell'arte. Queste ingiustizie ho cercato di rimediare con questo libro, parlando di loro, ricordandole, ricordando le loro bellissime opere e sperando in un futuro migliore per i nostri giovani.